Aumentano i collegamenti con Malta dall'area metropolitana. Dal 2 giugno si aggiunge alla tratta Treviso-Malta offerta dalla Raya Nero un nuovo volo da Venezia, gestito direttamente dalla compagnia di bandiera Air Malta. L'isola punta a sfruttare i contatti secolari con la laguna. Sono infatti moltissimi i veneziani che vivono nell'arcipelago maltese e i maltesi che amano venire a Venezia. Saranno ben tre i voli settimanali da giugno ad ottobre, e un periodo molto gettonato soprattutto dai maltesi che hanno fatto di Venezia una delle prime mete turistiche per le loro vacanze. Abbiamo scelto Venezia per due ragioni. La prima perché siamo molto contenti di portare persone di origine veneziane da Venezia a Malta, ma anche perché Venezia è una meta molto popolare tra gli abitanti di Malta. Abbiamo già firmato molti accordi con Tour Operator Maltesi, per esempio, per portare i maltesi a Venezia. I veneziani hanno molto da vedere nell'isola, che custodisce opere d'arte frutto degli scambi commerciali e culturali tra i due governi dell'epoca, come ad esempio questo splendido affresco del Caravaggio custodito nella cattedrale di San Giovanni alla Valletta. Il dipinto raffigura Giovanni Battista nel momento della decapitazione, in presenza del suo carceriere, del boia che sapresta vibrare il colpo finale, due donne pronte a ricevere la sua testa sul piatto d'argento e i compagni di cella atterriti. San Giovanni Battista, ormai morto, mostra un'espressione serena, che indica come il suo sacrificio anticipi quello di Gesù Cristo sulla croce. Unica opera firmata dell'artista e la più grande per dimensioni, la decolazione di Giovanni Battista permise all'artista che si è appunto formato a Venezia di ricevere l'onore della croce di Malta, simbolo dei cavalieri ospitalieri dell'isola.